La scuola come momento di aggregazione sociale e come strumento per avviare percorsi di inclusione sociale in grado di evitare marginazioni e dispersione scolastica. Nasce con questi obiettivi l'avviso Scuole Aperte e Inclusive, pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, e inserito nella programmazione POR FSE 2014-2020. L'avviso pubblico si rivolge ai soggetti di età inferiore ai 29 anni, inclusi gli studenti, dell'area del disagio sociale e svantaggiati, e gli studenti delle scuole abruzzesi, statali o paritarie, primo e secondo grado. Possono candidarsi alle associazioni temporanee d'impresa, composte almeno da due istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione accreditati o in procinto di esserlo.